Ciao, eccoci qua. Ragazzi, grazie mille per il supporto del video post partita, delle pagelle, che sono già contenuti, che sono stati pubblicati sul canale tra ieri sera e questo primo pomeriggio, subito dopo pranzo, abbiamo avuto le pagelle perché siamo già ripartiti a cannone dopo questi 40, 45, 50 giorni un po' più tranquilli sul canale in cui vi ho stressato un po' di meno, ma appena siamo tornati a fare sul serio, vedo che avete già risposto presente anche all'interno di una partita. abbastanza scarsa di emozioni vere e proprie che è culminata con l'emozione massima, cioè il gol al novantesimo, personalmente è stata un'energia, l'avete visto nella live reaction, abbastanza goduto nel portare a casa questa vittoria proprio perché avevo iniziato a sentire un po' di puzza di bruciato e vi spiegherò anche all'interno di questo video perché ieri sera vi dicevo che non sono pienamente soddisfatto della prestazione della Juve, in tanti mi hanno detto ma come, la Juve ha creato tanto, ho avuto tante occasioni, come fai a non essere soddisfatto e ora cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme con l'ausilio dei dati e delle immagini perché conto è, vi dico la mia, poi vi voglio anche mostrare perché vi ho detto così. Allora, questo è il match report che è stato gentilmente offerto da Soccerment, vi lascio comunque qui sotto in descrizione i link per arrivare sul sito di Soccerment per generare altre analisi, se volete altri dati, Soccerment ve li mette a disposizione in maniera completamente gratuita per quanto riguarda la Serie A, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione, dove potete anche acquistare Xeed che è il parastinco intelligente di Soccerment, io sono ancora infortunato ma sto per tornare e vedremo un attimino di tornare un attimino anche a giocare a pallone perché vedete la faccia un po' più a futtella tra lo stop legato al mio infortunio e il Natale e le tante mangiate, è ora di ricominciare a correre e quasi quasi dopo vado a fare la prima corsa a posto infortunio a vedere se siamo guariti, anche se ho ancora un po' di male ma voi di questa roba non interessa tantissimo, vediamo di andare a parlare di Cremonese e Juventus. Allora, i tiri perché sono un attimino il punto principale, tanti stanno dicendo sì ma la Juve ha tirato tanto, è vero, ben 19 volte, però spesso e volentieri cercavamo la conclusione dalla lunga distanza, guardate il grafico, i pallini, guardate quanti piccoli pallini verdi sulla destra per quanto riguarda la Juve sono tutte le posizioni da quale la Juventus ha cercato il tiro verso la porta e guardate invece dentro l'area sono sicuramente di meno e poi ce ne sono tre grandi dentro l'area che sono le posizioni da cui abbiamo avuto le occasioni più grosse dentro l'area di rigore avversaria e noi abbiamo creato appunto tre grandi occasioni da gol oltre il gol che viene da fuori area e siamo stati secondo me anche abbastanza fortunati con la barriera forse non messa benissimo alla carne secca e con la visuale ostruita probabilmente da Rabiot davanti al portiere per quanto mi riguarda soprattutto dal gol annullato agli avversari che ovviamente non viene conteggiato nel G e non c'è qui ed ha i due pali che ha beccato la Cremonese in posizioni di vantaggio loro, posizioni in cui gli avversari non dovrebbero trovarsi e nelle quali invece abbiamo lasciato liberi colpevolmente diversi giocatori e poi a questo vi rimando alle pagelle dove abbiamo già parlato di alcune letture che non mi sono piaciute particolarmente però come potete vedere tanti tiri sì, però poi bisogna contare, non me ne frega niente se facciamo 50 tiri ma li facciamo tutti dalla lunga distanza senza mai beccare lo specchio della porta o beccandolo pianissimo o regalando la palla al portiere bisogna cercare di creare delle occasioni pericolose con le quali poi si può fare effettivamente gol e ieri non è che mi sia sentito proprio il re delle occasioni d'oro da sfruttare anzi, secondo me, se li mettiamo sulla bilancia, sentivo anche prima il video di Davom che dice che secondo lui il risultato più giusto in questa partita è probabilmente il pareggio e sono abbastanza d'accordo, non vi dico 0-0 ma magari 1-1, siccome ieri è una partita da 1-1 poi è andata bene così a noi palla rotonda, il calcio può succedere di tutto, ieri è successo anche un po' di tutto, se vogliamo ci portiamo a casa questo successo però poi quando andiamo a cercare di analizzare la partita, gli episodi, le azioni, quello che è stato creato bisogna essere, credo, onesti con noi stessi e cercare di dire le cose come stanno proviamo ad andare un po' nel dettaglio, cerchiamo di capire quali sono state queste occasioni perché ai minuti 19-22 abbiamo una doppia giocata di Sule, ora vi metto soltanto quella del diciannovesimo minuto che mi piace anche un po' di più perché la seconda è uscita un po' più ciabattata, rasoterra, posizione anche un po' più centrale però cosa succede? Che Sule da destra punta l'avversario diretto, che è l'umorotero della camonese Valeri che tutte e due le volte non riesce a contenere l'impeto e la tecnica anche di Sule e tutte e due le volte tira a giro a rientrare con il mancino e tutte e due le volte carne secchi va a smanacciare questa probabilmente sarebbe uscita, carne secchi nel dubbio la mette in calcio d'angolo quell'altro invece sarebbe entrata, però ripeto, questa è un po' più bella balisticamente parlando proprio a livello di concezione comunque andatevi a rivedere anche solo gli highlights sul canale YouTube di Dazon da dove sono state prese appunto queste immagini e quindi ringraziamo Dazon per aver caricato all'interno del canale YouTube tutti gli highlights della partita come accade sempre alcune occasioni da fuori area di cui parlavamo prima con Costi c'è i meriti che prendano la mira anche qua ve ne metto solo una, non voglio essere, potevamo fare un video di 200 minuti però sarebbe stato anche pesante, vi metto soltanto le conclusioni, siccome è più bella quella di Costi questa qui è molto molto bella perché tira forte, tira a fil di palo si avvicina anche molto al gol, senza mai però trovare il gol, capite no? chi ci ha giocato a calcio dice vabbè, gol della domenica, magari il tiro da fuori arriva sei contento perché hai fatto gol il problema è quando poi lo spartito diventa quasi unicamente questo il gol non arriva, è quasi allo scadere della partita se ancora lì lì inizia a aumentare i giri forse colpevolmente troppo tardi come vedremo poi, ma fino a questo momento qua la Juventus è stata abbastanza incapace di fare di meglio se non appunto questi tiri da fuori aria da lunga distanza e quelle due giocate di Sule che comunque sono ovviamente occasioni da gol ma sono anche occasioni da gol abbastanza deboli se vogliamo paradossalmente la Cremonese con i salvataggi di Bremer sulla linea che non era fuori gioco e il gol annullato aveva impattato molto più alla grande secondo me rispetto alla Juve in questa partita qui la prima vera grande occasione dentro l'area di rigore avversaria che è lì che inizia a fare male lì che diventa più facile fare gol è quella di Gatti in seguito una mischia su calcio d'angolo riesce a liberare il destro purtroppo si vede il suo mistero non è far gol e la palla si spegne sul fondo però questa è la prima vera occasione che abbiamo dentro l'area di rigore la prima, minuto 58 per quello che vi dico va bene, è arrivata la vittoria felicissimo, ho esultato come un drago però ragazzi casa con la Cremonese unica squadra in Serie A che non ha ancora mai vinto io capisco che sia la prima partita post mondiale capisco che i giocatori abbiano bisogno di un po' di rodaggio però non erano partiti irresistibili non era una squadra irresistibile sicuramente ieri a portare a casa i tre punti siamo stati molto ma molto fortunati e spero che questa possa essere l'ennesima lezione da portarci a casa già anche in virtù dell'Udinese che sicuramente è una squadra che aveva iniziato l'anno correndo tanto più di quegli altri e se non si corre tanto quanto l'Udinese il set rischiamo attenzione poi la prima vera occasione costruita nasce da Ken che spalla la porta e cerca una sponda in fase di costruzione pallone che arriva da Miretti la sponda è un po' così con il Nino che si butta dentro Ken non gliela dà allora Ken poi guarda la porta cerca se Danilo c'è il rimpallo in tutto questo ambaradan di confusione arriva Federico Chiesa e dice ragazzi che cosa state facendo prendo la palla entro in aria e tiro con il mancino questa è proprio l'azione da Federico Chiesa di rabbia, di nervosismo anche di posizionamento purtroppo uscirà anche questa palla ma questa era veramente una bellissima occasione secondo me questa è una delle poche occasioni vere e proprie costruite dalla Juventus certo con un po' di caos di imprecisione che è stata una costante secondo me ieri all'interno della partita però questa è una bella occasione con Chiesa che guardate cosa succede cioè guardate la posizione poi tra l'altro il palo della Cremonese sarà pressoché identico con De Sers che beccherà il palo quasi dalla stessa posizione forse leggermente messo meglio e poi abbiamo appunto il primo palo della Cremonese ma anche una doppia grande occasione della Juve perché cosa succede? succede che Kostic mette in mezzo per Rabiot che mette proprio sul dischetto Rabiot calcia debolmente forse in maniera anche un po' molle carne secchi in calcio d'angolo anche dopo un rimbalzo quindi parata non semplicissima da quel calcio d'angolo quindi le due grandi occasioni che abbiamo visto dentro l'area quella di Chiesa e le altre due due sono sulla stessa azione tra le altre cose dall'angolo Ken in questa posizione calcia carne secchi para sembrava di faccia invece in realtà ci ha messo la mano da questa occasione qua che cosa succede? ripartenza molto pericolosa della Cremonese di cui vi ho già parlato sia nelle pagelle quindi vi invito trovate il video qui sopra nelle schede o comunque andando sul canale andate a trovarvi le pagelle ve ne ho parlato anche sui social questa è Instagram ve l'ho caricato anche su TikTok adesso ve lo caricherò anche sul secondo canale ma c'è quell'occasione lì in cui Paredes proprio stacca completamente il sensore della velocità e va a passeggiare allegramente per fortuna che Chiesa invece fa quel recupero e mille all'ora se no la Cremonese rischia veramente di farci male a dieci minuti dalla fine rimane tutto sulla 0-0 e poi Milik con il suo gol capolavoro ci fa andare in vantaggio e ci regala la vittoria però ribadisco è tutto un insieme un equilibrio molto precario fino a questo momento con la Juve che inizia a spingere particolarmente dal minuto 65 in poi siamo abbastanza in là nell'arco della gara il gol di Milik arriverà appunto spunizione dopo un altro tentativo sempre a fuori Moise Ken che è questo qui che cosa vuol dire? che la Juventus ragazzi ha avuto una vera e propria difficoltà a entrare all'interno dell'area di rigore degli avversari cioè noi abbiamo sì tirato tanto è vero è verissimo abbiamo creato sì certo però sono tutte Emiretti che tira da qua Costi che tira da là Ken che tira da su Sule che tira da giù sono tutte su quella falsa riga tutte occasioni che sì sono occasioni certo poi Carnesecchi la para anche in maniera comoda tante volte in maniera comoda perché? perché non siamo in grado di creare un pericolo effettivo da dentro l'area l'abbiamo creato una volta con Rabiot una volta con Ken e una volta con Chiesa vabbè quella di Gatti è una ciabattata quindi non è nemmeno un pericolo però le tre grandi occasioni che abbiamo avuto nascono perché siamo dentro l'area di rigore e nascono dal minuto 65 in poi questo che un po' mi dà male cioè poi guardi i dati che trovate comunque sul report di Soccerment abbiamo toccato soltanto 20 palloni nell'area avversaria 20 ma 20 sono pochi ne hanno toccati 24 loro nella nostra infatti ieri abbiamo ballato dietro vero che non abbiamo preso gol vero che siamo riusciti a concludere con la settima vittoria consecutiva senza subire gol però ragazzi loro hanno preso due palle ne hanno guardato un gol e abbiamo salvato un gol sulla linea se dobbiamo pesare tutte queste cose vi dico sì i tre punti allora ragazzi secondo me c'è andata bene molto bene e per fortuna che c'è andata bene contro una squadra con la Cremonese no perché rischiavi un'altra figuraccia poi che quest'anno ne hai già fatte tante ricominciare con una figuraccia non mi sarebbe andato bene mi sembra molto la gara con Lecce dove dopo una partita molto sofferta sul finale trovi il gol e poi loro hanno anche una macro occasione e beccano il palo quindi in questo momento gli episodi stanno andando a nostro favore nel senso della fortuna cerchiamo di fare quel passo in più per cercare di farli andare a nostro favore ma non sempre solo per la fortuna anche magari per un pizzico di bravura in più perché io sono convinto che questa Juve possa fare di più contro la Cremonese sono convinto cioè non ditemi che era il massimo che si poteva fare non ci credo una lettura interessante può essere a livello fisico non siamo ancora messi bene quindi Allegri ha cercato una gara contenitiva contro un avversario che sulla carta non poteva avere grosse occasioni di farci male può essere una lettura però in questo caso significa che a maggior ragione ci è andata bene perché in realtà la Cremonese ieri aveva una grande occasione di portare a casa almeno un punto almeno un punto poi ribadisco andata così io la vittoria sono goduta l'ho festeggiata sono stato felicissimo però secondo me da prendere in considerazione che già le prossime due partite con Udinese e Napoli sarà necessario cambiare registro perché se no si rischia veramente e decisamente di più rispetto a ieri ribadisco spero che sia stata un vabbè conteniamoci perché la Cremonese dai cosa vuoi che ci faccia concentriamoci sulle altre però ho un po' paura che ci sia qualcosa a livello fisico che non convince lo staff della Juventus low quality pick perché sul canale YouTube di Dazzano non c'era quindi sono andato direttamente dentro la partita per azione più bella secondo me del secondo tempo in crescendo bianconero guardate Rabiot che imbuca nello spazio non vedete nemmeno Kostic perché è qui sulla sinistra ma Kostic poi taglia dentro si ritrova in area tocco forse troppo timido forse un po' così anche Allegri si è arrabbiato poi per questa occasione che cerca al centro Milik ma questo è stato il vero unico movimento senza palla che abbiamo creato all'interno della partita se escludiamo quello lì di Chiesa dove è stato Chiesa proprio andarsela a prendere di grinta di cattiveria questa è una gran palla grandissima palla di Rabiot veramente gran palla di Rabiot e Kostic che spreca un pochino infatti anche nelle pagelle vi dice non sono troppo soddisfatto del rendimento di Kostic che tira sì però basterebbe un po' più di lucidità probabilmente in alcuni momenti della gara la conferma della crescita di questa squadra nella ripresa arriva anche dal grafico inerente agli XG ok li vedete qua dal minuto 60 65 in realtà in poi la Juventus è entrata due tre volte nell'area avversaria creando dei pericoli reali perché fino a quel momento i pericoli non erano stati così grandi lo vediamo il grafico in verde no? sia lì rispetto a quelli della Cremonese nell'ora precedente soltanto i tiri da fuori come abbiamo visto anche dai grafici alla fine la Juventus chiude con 1.47 ad XG e la Cremonese con 0.72 quindi ancora una volta ribadisco secondo me è andata molto bene nel portare a casa la vittoria ieri 3-5-1-1 per Allegri che gioca molto con le posizioni di tre centrocampisti offensivi quindi Locatelli escluso Miretti e Fagioli si scambiano spesso nel ruolo di giocatore a supporto di Milik che secondo me è stato lasciato davvero troppo solo là davanti anche colpevolmente poi per fortuna Milik tira fuori dal cilindro quella giocatina lì MVP grazie alla punizione a fil di palo ribadisco anche qua secondo me con carne secca che qualcosina di suo ci mette data da Dio per fortuna tutti gli astri che si sono allineati è la Juventus che porta a casa i tre punti però c'è anche da sottolineare una gara di una sofferenza terribile nella quale ho pensato più volte oggi non la vinciamo e anzi stiamo attenti perché la figuraccia potrebbe essere dietro l'angolo e quindi grazie mille a Sockermant grazie mille ad Azon dati e immagini ancora una volta ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione i link per andare a scaricare un po' di report da Sockermant e niente mi piace un commento ci sono tanti video già caricati e domani siamo già in vigilia c'è già la conferenza stampa ripresentazione di Juventus udinese perché domani era Befana sì però poi il 7 si gioca nuovamente è un po' di